Salve a tutti e a tutte e benvenuti a questo nuovo appuntamento dei dialoghi di Pandora Rivista. Siamo molto lieti di dare il benvenuto qui oggi al professore Alessandro Vespignani, uno dei massimi esperti mondiali di sistemi complessi, scienza delle previsioni ed epidemiologia computazionale. Il professor Vespignani insegna alla Northeastern University di Boston, è professore di fisica, informatica e scienze della salute e sempre alla Northeastern University, è direttore del Network Science Institute, coordinatore appunto di un gruppo che si è occupato tra le altre cose di sviluppare i modelli che hanno consentito di affrontare alcune delle più importanti pandemie degli ultimi anni, tra cui ovviamente l'ultima pandemia da Covid-19 che ha coinvolto tutto il mondo. Oltre alle sue numerosissime pubblicazioni scientifiche, in questo contesto in particolare ricordo due libri più rivolti al grande pubblico, ovvero L'oracolo e l'algoritmo, uscito per il insaggiatore nel 2019 e il recente I piani del nemico, uscito per Rizzoli appunto sulla pandemia da Covid-19. Con il professor Vespignani discuteremo di alcuni dei concetti alla base del suo lavoro, cercando di capire appunto il significato che hanno le previsioni, i modelli che appunto vengono sviluppati per modellizzare appunto le pandemie, ma anche molti altri fenomeni e io vi ringrazio in anticipo per l'attenzione e possiamo iniziare subito dopo la sigla. Professor Vespignani, intanto grazie davvero per aver accettato il nostro invito e per essere qui. Salve a tutti ed è un piacere essere qui con voi. Ecco io volevo partire proprio dal concetto di previsione che appunto nel titolo molto suggestivo appunto del suo libro che ricordavo prima appunto L'oracolo e l'algoritmo, in un qualche modo lei richiama quella che è un'ambizione, in un qualche modo un desiderio che l'umanità ha coltivato appunto fin da tempi remoti, cioè quello di prevedere il futuro, in un qualche modo di riuscire ad avere gli strumenti per controllarlo. Se in un qualche modo questo nelle fasi remote della storia umana appunto era un desiderio che comunque produceva effetti molto concreti con tutto l'insieme di riti, anche di poteri che si legavano a queste dinamiche, negli ultimi decenni questa aspirazione ha acquisito delle basi molto più solide e concrete, in un qualche modo. Ecco le chiederei per iniziare di darci qualche elemento in un qualche modo per ricostruire per sommi capi alcuni dei passaggi insomma di questa storia e che ci ha portato da un lato a porre quelli che sono i presupposti teorici appunto di questo insieme di discipline e dall'altro anche le basi materiali e tecnologiche che hanno condotto appunto soprattutto negli anni recenti a un grandioso sviluppo appunto di questi ambiti, sviluppo che diciamo si è aggiunto anche in altri ambiti come quello dello studio delle epidemie ad altri settori più consolidati come la meteorologia di cui appunto da tempo conosciamo i risultati. Beh io inizio sempre un pochino quando parliamo di previsioni con un qualche modo con una cosa che un po' è scherzosa ma poi non completamente cioè se noi guardiamo alla scienza, al cammino della scienza c'è ovviamente una pulsione dell'uomo ad avere l'ossessione del controllo, siamo tutti un po' ossessivi sul controllo e il controllo vuol dire cercare fin da quando eravamo in qualche modo dentro delle caverne, intorno ad un fuoco di cercare di capire cosa ci può minacciare, prevederlo e cercare di scansarlo in qualche modo e se ci pensiamo è vero che la predizione è una delle forme più sofisticate di controllo è sapere il domani e quindi in qualche modo controllare il futuro. Questo è stato un qualche cosa che come giustamente diceva lei per molto tempo ha vissuto all'interno di riti, anche di strutture che poi diventavano politiche e di governo. Con le scienze naturali, con la grande grande cambio di passo delle scienze naturali, noi invece cominciamo a prevedere, cioè quello che poi è successo in qualche modo è cominciato con la fisica e poi è entrato negli altri campi, è un cammino straordinario dove oggigiorno nessuno si stupisce che noi possiamo prevedere le eclissi di luna o di sole in maniera straordinariamente precisa, con un'enorme anticipazione temporale. Poi possiamo andare ad altre aree come la meteorologia, dove ovviamente i nostri tempi previsionali sono molto più brevi, ma però molto molto solidi, se noi ci pensiamo il cammino che ha fatto la meteorologia è enorme e poi in realtà noi prevediamo, il mondo vive di previsioni, perché se ci pensate un aereo prima di essere costruito oramai vive all'interno di un computer, viene progettato il computer, prevediamo quali sono i materiali che si possono, dalla struttura atomica e quindi in qualche modo noi costantemente eseguiamo previsioni. C'è stata una dimensione che poi era quella più importante che è sfuggita per tantissimo tempo, cioè la previsione in tutti quei sistemi dove l'uomo è parte del sistema e cioè la previsione degli individui in qualche modo e lì ci si va a scontrare subito con una barriera concettuale, quella di dire ma no, fermi, l'uomo ha infinite dimensioni psicologiche, cognitive, ognuno di noi ha il libero arbitrio eccetera, non possiamo prevedere quello che succede a livello degli individui, è impossibile ingabbiare l'uomo all'interno di equazioni o modelli previsionali. In realtà questo appunto non è vero nel momento che noi non andiamo più a guardare il singolo individuo come noi non cerchiamo di prevedere il singolo atomo quando facciamo la meteorologia, ma se noi guardiamo al sistema sociale come un aggregato a quel punto invece si possono cominciare a fare previsioni su quelli che sono le evoluzioni del sistema sociale e delle interazioni della società con altri fenomeni e quindi parliamo della pandemia ma come anche di tante altre cose che riguardano l'economia, la politica. L'altra grande barriera però oltre quella diciamo più concettuale che tra l'altro molti scienziati sociali hanno in realtà appunto dicevano no, guardate che è possibile pensare di costruire una scienza dei sistemi sociali che in qualche modo è come la fisica, cioè parte dall'atomo sociale, l'individuo poi costruisce le famiglie, quindi quelle sono come delle molecole e poi le molecole costruiranno invece il corpo sociale esattamente come le molecole costruiscono i materiali, pensare che appunto erano alcuni degli scienziati sociali che proponevano questi programmi. L'altra però grande barriera è sempre stata quella dei dati, quella dei dati era una barriera infinita perché mentre noi possiamo fare esperimenti controllati in laboratorio, guardare che cosa fanno atomi, molecole eccetera e cercare di quindi disegnare una fisica di questi sistemi anche a livello aggregato, con l'individuo diventa molto molto più complesso e qui c'è la grande chiave di svolta degli ultimi 20 anni, cioè c'è un cambio di passo tecnologico che permette di acquisire una tale quantità di dati sull'atomo sociale, cioè su ciascuno di noi, che il mondo previsionale si apre a qualcosa di completamente nuovo. Io lo dico sempre, noi tutti siamo oramai prima di tutto attorniati da montagne di tecnologia pervasiva, cioè quando entriamo nei posti, dove andiamo, cosa facciamo. Abbiamo con noi dei dispositivi, come i telefoni mobili, come tutti i wearables, purtroppo una brutta parola in italiano, ma che è con noi e che misura quello che noi facciamo, la nostra temperatura corporea, i nostri movimenti. E poi in realtà negli ultimi anni c'è qualcosa di veramente esplosivo, cioè noi attraverso le tecnologie lasciamo delle tracce non solo del nostro essere fisici, cioè di dove andiamo e con chi ci incontriamo, ma addirittura di cosa pensiamo. Cioè noi analizzando Facebook, analizzando Twitter, analizzando tutto quello che viene lasciato nel mondo social, entriamo nella testa di milioni di persone come non siamo mai entrati. Ecco, tutti questi dati sono dati che ovviamente hanno una difficoltà, non sono strutturati per fare delle previsioni, per fare scienza, ma in realtà sono una miniera d'oro dal punto di vista scientifico e non economico, anzi, fatemi dire, anche economico, ma prima di tutto scientifico, per cercare di capire cosa facciamo, dove andiamo e disegnare queste mappe del futuro. Ecco, a partire da questo volevo approfondire un punto, appunto lei ricordava come chiaramente la disponibilità di questa mole di dati e anche la capacità computazionale che in un qualche modo permette di elaborarli, lo sviluppo degli algoritmi di intelligenza artificiale, siano stati degli ingredienti essenziali appunto di questo passaggio. Ma volevo approfondire un po' un punto che ha a che fare con il rapporto appunto tra i dati e la teoria, no? Perché c'è appunto un famoso articolo di Chris Anderson che è The End of Theory, no? In un qualche modo a un certo punto si è pensato ma alla fine bastano i dati, no? Cioè, a partire dai dati e dalla ricerca in un qualche modo di regolarità che può essere fatta sui dati, si può ricavare tutto. Ecco, è così? Questa è una domanda straordinariamente importante perché è vero che circa, oramai parliamo di oltre dieci anni fa, c'è stato questa grande idea di movimento dei big data come slogan per dire si prendono questa montagna di dati che accumuliamo, si mettono all'interno delle macchine che più o meno li analizzano e non ci serve nient'altro. L'articolo di Chris Anderson infatti si concludeva dicendo è tempo che la scienza impari da Google, che è una cosa abbastanza in qualche modo provocatoria, una frase provocatoria ma disturbante. In realtà a me piace sempre di citare Poincaré quando diceva bisogna stare attenti, quindi una montagna di dati non è scienza informazione più di quanto una montagna di mattoni non sia una casa. Nel senso che in realtà all'interno di questi dati noi dobbiamo trovare delle strutture da avere una comprensione teorica. Una cosa molto molto importante infatti è il fatto che, come dire, noi possiamo e sicuramente l'uso anche dell'intelligenza artificiale è in combinazione con questi dati una delle prime cose importanti. Però è anche vero che questi algoritmi che spesso lavorano con i dati diventano delle scatole nere che non ci permettono di avere una reale comprensione del fenomeno. Ci danno delle risposte ma non in una maniera esplicativa. Ci sono alcuni dei miei colleghi che si appellerebbero al famoso paradosso di Poliani, cioè di dire ma in realtà questo è in qualche modo un esempio di conoscenza tacita, veniva detto il tacit knowledge. Faccio l'esempio semplice. Tutti noi sappiamo se vogliamo insegnare a un bambino ad andare in bicicletta non ci mettiamo alla lavagna a scrivere le equazioni della fisica della bicicletta. Mettiamo il ragazzo sulla bicicletta, la ragazza sulla bicicletta, lo spingiamo e speriamo che vada bene insomma. Perché? Perché in realtà il nostro cervello usa le leggi della fisica ma non le sa esplicitare in qualche modo. E allora si dice ma guardate che in qualche modo all'interno di questi algoritmi c'è qualcosa di analogo, cioè loro sanno cosa trovano e perché siamo noi che non riusciamo in qualche modo a dialogare con loro. Secondo me questo da una parte è molto pericoloso perché non riuscire ad aprire la scatola nera algoritmica è un problema per molti versi anche etico e per il fatto che in realtà ogni algoritmo si nutre di alcuni dati precisi e quindi in qualche modo già lì esiste una forma di controllo dell'algoritmo e di, come si dice, di bias in quelle che sono le risposte. Ma l'altra cosa è che spesso queste risposte non ci bastano, nel senso che famosi esempi come quello di Google Flu Trend, cioè questo algoritmo che in base alle ricerche degli utenti su Google riusciva a dire che cosa, come si muoveva l'influenza negli Stati Uniti, dava delle previsioni su quello che succedeva la settimana prossima o tra due settimane però senza spiegare il perché. Noi in realtà vogliamo sapere, non ci stiamo vaccinando abbastanza, la stagione influenzale è particolarmente severa per quali motivi, qual è la trasmissibilità del virus, qual è l'immunità residua. In realtà per quello noi dobbiamo avere degli algoritmi che usino della teoria, che ci permettano di capire i meccanismi del fenomeno. Questo è fondamentale, infatti io dico sempre, per parafrasare l'articolo di Anderson, la teoria è morta, viva la teoria, nel senso che noi dobbiamo tornare alla teoria. E uno dei punti su cui io spesso cerco di tornare è che, ad esempio, la teoria dei sistemi complessi è uno degli elementi fondamentali proprio di questa nostra comprensione del mondo collettivo, dei sistemi sociali e anche della nostra capacità di prevedere il futuro. I sistemi complessi appunto sono loro che ci dicono come l'interazione di un'enorme quantità di agenti che sembrano o disordinati o comunque seguire solamente la loro prospettiva locale possono dare in realtà vita a dei fenomeni collettivi che possono essere predetti e compresi. Ecco, questo è molto interessante tra l'altro sui temi della black box, degli algoritmi e anche sul tema dei bias, appunto chi segue il lavoro di Pandora Rivista sa che l'abbiamo affrontato in tante occasioni da prospettive diverse rispetto alla discussione appunto su le potenzialità e gli elementi di cautela che bisogna avere nei confronti dell'intelligenza artificiale. Ecco, ma io volevo tornare un po' anche su questa sua ultima sottolineatura appunto sulla teoria dei sistemi complessi. Da un lato stupisce, diciamo, a chi si avvicina per la prima volta a questi argomenti come appunto questa teoria e anche questi modelli che vengono sviluppati possano essere applicati ad ambiti così diversi, apparentemente diversi, dal mondo naturale al mondo sociale, appunto il mondo politico, le epidemie eccetera eccetera. Quindi da un lato volevo chiederle quali sono i riflessi in termini di interdisciplinarietà, cioè cosa, che aspetti presenta, diciamo la collaborazione tra figure con formazioni anche così diverse, come si articola. E dall'altro volevo chiederle quali specificità, se esistono delle specificità, comporta l'applicazione appunto di questi approcci al mondo naturale e al mondo sociale. Cioè esistono dei caveat specifici che vanno applicati quando ci occupiamo di questioni umane e sociali? Assolutamente, nel senso che qui c'è quello che è il camminare e cercare di bilanciare appunto su questi due pedali. Da una parte quella che è la parte che noi chiamiamo di universalità di questi approcci, di questa comprensione dei sistemi complessi e dall'altra però della specificità che ogni sistema ha. La specificità arriva dai meccanismi che sono normalmente calati all'interno del sistema, cioè l'interazione ad esempio tra società e biologia quando parliamo di epidemie o tra società e conoscenza quando parliamo di contagio sociale, di informazione politica e così via. Poi però ci sono invece delle alcune cose che possono essere guardate un po' più da lontano in qualche modo e cercare di astrarre dei principi che sono più universali. Per esempio quello che la teoria dei sistemi complessi ci dice dov'è che entra, in qualche modo entra la teoria dei sistemi complessi. quando noi abbiamo un grande numero di agenti in interazione e se noi guardiamo un singolo agente o due di questi agenti in realtà non riusciamo a capire il sistema come fenomeno collettivo. Qual è l'esempio più semplice? L'esempio più semplice forse viene dal mondo della fisica. Noi possiamo guardare un bicchiere d'acqua. Quest'acqua la mettiamo a bassa temperatura e diventa ghiaccio. La possiamo mettere in una pentola con il fuoco, alziamo la temperatura e diventa vapore. Se noi però prendiamo due molecole d'acqua o una singola molecola d'acqua noi non riusciremo mai a capire perché abbiamo il ghiaccio, l'acqua o il vapore. In realtà noi dobbiamo avere un numero enorme e gli effetti collettivi dovuti alla temperatura, alla fisica del sistema danno queste forme diverse dalla materia. Questo succede anche nei fenomeni sociali. Questo succede quando guardiamo il volo sincronizzato degli uccelli o le scuole di pesci in acqua che si muovono in maniera coordinata. In realtà non c'è una coordinazione, non si stanno parlando. Sono tutti fenomeni dove ci sono delle interazioni tra i singoli individui molto locali ma queste interazioni danno vita a questi fenomeni straordinari di coordinazione. Ovviamente i meccanismi cambiano a seconda del sistema e quindi diventa fondamentale capire i meccanismi del sistema, avere una teoria di quei meccanismi e poi riuscire a rincollare questi pezzi per capire l'evoluzione completa del sistema. Questo ci porta nell'interdisciplinarietà perché questo vuol dire avere squadre al lavoro dal punto di vista scientifico in questi sistemi che vanno ad usare pezzi di conoscenza molto diversi. Da una parte c'è la conoscenza specifica del sistema, parliamo di pandemie, epidemie, bisogna avere gli epidemiologi ma bisogna avere i medici, bisogna avere i virologi, cioè tutte le persone che ci parlano dei meccanismi della trasmissione, del contagio, del virus, il suo tempo di incubazione. Poi però servono anche gli studi di popolazione, serve tutta la parte di statistica, serve la parte di sistemi dinamici, serve chi a un certo punto trasferisca queste grandi rappresentazioni matematiche a questo punto di quello che succede nel sistema all'interno di computer che riescano ad elaborare le informazioni e a produrre le previsioni. quindi c'è i fisici, ci sono gli informatici, ci sono gli ingegneri e poi ci sono gli scienziati sociali perché parliamo di società, parliamo di uomini e quindi dobbiamo capire anche tutto quello che è il fenomeno delle nostre interazioni cognitive con il mondo circostante. quindi come vedete, infatti lo dico sempre, in questi campi oramai sempre di più parlare di scienza come la scienza del singolo scienziato, della persona, è una scienza di squadra, la scienza è fatta da squadre di persone e la distruzione di questi muri disciplinari è estremamente importante in queste aree. poi ovviamente ci sono degli studi che vanno fatti in maniera verticale, ci sarà sempre il laboratorio di microbiologia, ci sarà sempre lo studio dell'ottimizzazione dell'algoritmo che sono molto specifici ma tutto questo in una visione collettiva della nostra voglia di comprendere i sistemi e il mondo intorno a noi. Grazie. Ecco, lei evocava la pandemia e appunto adesso ci arriviamo più nello specifico appunto perché queste squadre di cui lei parlava hanno avuto un ruolo fondamentale appunto nei mesi, negli anni della pandemia. appunto il suo ultimo libro si intitola I piani del nemico, in un qualche modo in cui il nemico in questo caso appunto sarebbe il virus, in un qualche modo quindi richiamando, e lei lo rivendica in un qualche modo anche proprio nel libro, questa metafora bellica che è stata in un qualche modo usata nel corso appunto della gestione della pandemia. e anche in un qualche modo distinguendo nel suo lavoro, nel suo procedere, diciamo una fase di pace, che appunto è la fase della ricerca di cui abbiamo parlato finora con le caratteristiche e i dilemmi che in essa si presentano, è appunto una fase invece di guerra in cui c'è un'emergenza da affrontare. ecco quali sono diciamo le specificità da questo punto di vista. Noi in gergo diciamo che c'è il tempo di pace e il tempo di guerra in epidemiologia computazionale, cioè quando non ci sono le emergenze epidemiologiche quello che si fa è di fare quel lavoro scientifico di comprensione di base di avanzamento degli strumenti tecnologici e anche appunto proprio teorici della nostra comprensione di come si evolve un'epidemia o una pandemia. Poi però c'è quello che noi definiamo il tempo di guerra, cioè quando c'è un'emergenza epidemiologica il nostro lavoro diventa un lavoro che è in molti casi estremamente operazionale, cioè cercare di capire il dove, come e quando della pandemia. Una cosa importante che io devo dire è che in questo combattimento contro il virus quello che noi facciamo con l'epidemiologia computazionale è quella che sarebbe l'intelligence, fondamentalmente è un cercare di anticipare le mosse di questo nemico. Quindi io ci tengo sempre a dire che poi in realtà la nostra riconoscenza deve essere infinita per chi poi va a combattere il nemico in prima linea, ovvero il personale sanitario, i medici. Sono le persone che rischiano la vita, l'hanno rischiata e l'hanno anche persa, come abbiamo visto durante molte emergenze epidemiologiche, incluso il Covid. Quello che noi cerchiamo di fare è appunto attraverso i nostri strumenti previsionali di aiutare questa risposta alla pandemia. Lei ha citato la metafora bellica, è una metafora che bisogna sempre stare molto attenti. Io questo ho cercato di raccontarlo nel libro. Da una parte può diventare scontata questa idea del virus come nemico, ma in realtà non ha una strategia. In realtà secondo me la metafora bellica invece è molto importante per far capire come in una pandemia la scala della risposta che noi dobbiamo dare è equivalente a uno sforzo bellico. Noi ci troviamo davanti a minacce che sono minacce globali e sociali durante una pandemia che necessitano di una risposta che dovrebbe essere globale e coordinata e che deve in qualche modo coinvolgere risorse enormi e quindi è uno sforzo di tipo in qualche modo bellico dove c'è un nemico che in realtà da un punto di vista suo evolutivo cerca di ottimizzare delle cose e usa le nostre mosse, ad esempio come noi viaggiamo, come ci muoviamo nel mondo proprio per diffondersi meglio. L'altra cosa è che secondo me è molto importante pensare ad una pandemia come al combattimento con un nemico ci permette di non perdere il fuoco di chi è il nemico, che è il virus, mentre invece purtroppo, questo è successo anche con Covid, noi ci siamo ritrovati più volte soprattutto poi nelle fasi successive della pandemia dopo la prima ondata in qualche modo a combattere tra di noi a perdere il senso che il vero nemico è il virus e invece a frammentarci in fazioni tra appunto chi vorrebbe fare delle cose, chi ne vorrebbe fare delle altre, punti di vista e così via. Quindi in realtà per me quella cosa è stata, diciamo, un momento il richiamare questa metafora bellica serve proprio a riacquisire una consapevolezza di chi è che ci sta minacciando e di presentare sempre un fronte unito rispetto a questa minaccia. Ecco, in questa guerra contro il virus uno degli elementi che è diventato uno dei nodi principali è stato quello del confronto ma, diciamo, oppure della dissonanza, della discrasia tra il linguaggio, i tempi, le modalità della scienza e determinate appunto modalità del discorso pubblico in cui si è verificata spesso un'incomprensione, diciamo un'incapacità di trovare una sintonia. Ecco, da questo punto di vista probabilmente uno dei punti importanti che poi ci richiama, ci rimanda anche a discorsi più ampi che facevamo prima è il tema dell'incertezza perché queste previsioni da un lato vengono viste come delle previsioni che ci danno delle certezze ma al tempo stesso per la loro natura presentano, diciamo, un grado di probabilità e incertezza e poi anche delle caratteristiche specifiche che hanno a che fare con la natura dell'evento pandemico, quindi il prevedere appunto la possibilità di avere delle azioni che vengono prese dai decisori politici per contrastare la pandemia e questo nodo dell'incertezza probabilmente fatica ad essere colto nel dibattito pubblico. Questo è stato uno dei grandi nodi della comunicazione durante la pandemia, cioè prima di tutto il non avere una familiarità con quello che è il lavorare con delle previsioni in un sistema che non sia un sistema come quello meteorologico e qual è la differenza? Che se noi prevediamo quale sarà la traiettoria dell'uragano, l'uragano assolutamente non gliene importa nulla della nostra previsione e continuerà sulla sua strada, mentre nel momento in cui noi facciamo delle previsioni su una pandemia, su un qualcosa, quindi dove i nostri comportamenti hanno un effetto, ovviamente c'è un meccanismo di reazione e quindi in qualche modo la previsione distrugge se stessa, nel momento che noi andiamo a prevedere delle cose ci saranno delle reazioni che faranno cambiare la traiettoria dell'epidemia e quindi c'è questo continuo di aggiustamento. Questa cosa è fondamentale perché serve prima di tutto a capire come funziona realmente la previsione nei sistemi che hanno una componente sociale, cioè ci sono due facce, la prima è che sì, è vero, si possono fare delle previsioni, queste previsioni hanno degli orizzonti temporali limitati, una settimana, due settimane, tre settimane e hanno delle incertezze, già quelle come noi siamo abituati a vedere all'interno dei sistemi meteorologici, sono incertezze dovute alla nostra non conoscenza completa delle condizioni del sistema e molti altri elementi tecnici che ovviamente danno quelle, come chiamiamo, forchette intorno ai valori che pensiamo possa assumere il sistema nel futuro. Però oltre quell'orizzonte non si riesce proprio ad andare perché se io per esempio faccio una previsione di una pandemia e vedo che l'evoluzione di questa pandemia sarà disastrosa verranno prese delle misure appunto di contrasto e quindi questo cambia l'evoluzione, l'evoluzione del sistema. Come si lavora in questi casi? In questi casi quello che si fa è l'analisi di scenario, ovvero si analizzano l'evoluzione del sistema condizionale a delle assunzioni su quello che succederà, cioè su quali politiche verranno messe in campo, su come cambierà il comportamento della società, quali saranno per esempio i cambiamenti del virus. Questi sono degli scenari che non hanno una valenza previsionale, servono a dare delle possibili mappe del futuro che sono elementi di ragionamento per chi deve prendere le decisioni, per i decisori e per la politica. In questo senso ad esempio c'è sempre la famosa polemica, questi scenari hanno sempre quello che noi chiamiamo il worst case scenario, cioè lo scenario peggiore, cioè lo scenario in cui non si fa nulla e il sistema si evolve, il virus si muove imperturbato all'interno della popolazione. Questo è lo scenario per esempio che per definizione non si realizzerà mai. Ma perché si analizza? Perché in qualche modo è la nostra pietra di paragone rispetto al valore delle mitigazioni che noi mettiamo in campo per vedere quanto cambieremo la traiettoria del sistema. E serve soprattutto per capire qual è il potenziale distruttivo del virus. Ovviamente io faccio sempre l'esempio. Durante la pandemia influenzale del 2009, la famosa H1N1, qualcuno lo ricorda come l'influenza su Ina, nessuno ha chiuso il mondo o ha fatto misure di mitigazione come abbiamo visto durante il Covid. Perché? Perché in realtà in quel caso dopo poco anche gli scenari peggiori non ci mostravano un futuro di disastri e di sistemi sanitari travolti. Mentre invece con il Covid purtroppo, purtroppo sì. Quindi in qualche modo si lavora in maniera molto diversa. Quello che è successo durante la pandemia è che purtroppo invece c'è stata una cacofonia di voci che spargevano previsioni, scenari in una maniera molto incoordinata, indistinta e soprattutto con una dinamica dell'informazione molto, secondo me molto disturbante. Cioè una dinamica dove in qualche modo stranamente il mondo è andato in giro chiedendo a individui e a persone individuali, scusa lasceresti perdere quello che stai facendo e ci fai delle previsioni su che succede domani. Che sembra una provocazione, ma in realtà è stato così. Sui giornali abbiamo visto di tutto e di più. Ora se voi ci pensate, se voi volete sapere quale sarà la traiettoria di un uragano o che tempo farà domani, non è che andate da individui, è andata ai centri nazionali di meteorologia. Cioè questo è mancato. Noi non avevamo, e questo è a livello mondiale, delle strutture in grado di fare questo tipo di comunicazione univoca e che in qualche modo non si basasse su un solo modello, su un solo punto di vista, ma fosse in qualche modo elaborasse un consenso di modelli ed algoritmi come si fa esattamente nella meteorologia. Questo poi durante la pandemia è stato per esempio uno degli sforzi che noi abbiamo fatto negli Stati Uniti con il Center for Disease Control di cercare di avviare questo tipo di sistema che viene definito un sistema hub, cioè dove ci sono dei centri dove ci sono decine di gruppi per esempio di epidemiologi che lavorano per produrre quelle che noi chiamiamo previsioni di ensemble, che quindi sono più solide rispetto a una comunicazione sparpagliata. Se andiamo a vedere quel tipo di lavoro, la epidemiologia computazionale ha fatto tantissimo durante questa pandemia. Quando in Cina venivano dichiarate poche decine di casi, i sistemi computazionali già ci dicevano che si parlava invece di decine di migliaia di infezioni. Quando ci siamo trovati a metà febbraio, che sembrava che tutto andasse bene, l'epidemiologia computazionale ci diceva che in realtà la pandemia era diventata inevitabile proprio perché riusciva a vedere attraverso i dati quello che non si vedeva nel mondo reale, cioè che c'era una montagna di trasmissione del virus che era completamente non vista, non misurata, ma che stava avvenendo e fondamentalmente diffondeva la pandemia nel mondo. Dopo è servita tantissimo a capire molte delle parti più oscure di questo virus, come il numero di infezioni asintomatiche, tutte le complicazioni legate alle mutazioni del virus e poi dopo anche tutta quella che è stata la parte di ottimizzazione, di distribuzione dei vaccini e così via. Quindi in realtà come vedete poi è un lavoro, come dicevamo prima, operazionale molto giorno per giorno che speriamo in qualche modo nel futuro possa essere fatto ripartendo da dove siamo adesso e non tornando indietro in qualche modo di nuovo a qualche cosa che è completamente non strutturato dal punto di vista della comunicazione. Questa è una delle cose su cui si sta lavorando in molti paesi europei, a livello internazionale, proprio di creare dei centri, come li chiamiamo noi, di previsione e analisi dati per tutto quello che è l'emergenza epidemiologica, che siano molto più forti e molto più preparati. Ecco, leggendo il suo libro ci si rende conto molto bene di quello che lei diceva, cioè al di là dell'impressione che il pubblico ha tratto durante la pandemia, che appunto per la comunicazione che ne è stata fatta è stata un'impressione, diciamo, disordinata, anche in cui il rapporto diciamo con la scienza si è un po' incrinato, appunto è sembrato che ci fossero voci diverse. Invece dalla lettura del libro ci si rende conto di come appunto l'epidemiologia computazionale avesse, diciamo, saputo fare appunto delle previsioni, mettere in campo dei modelli molto efficaci, robusti di quello che stava succedendo in un qualche modo. E quindi da questo punto di vista, questo anche in vista di eventuali, non eventuali, ma delle prossime, diciamo, epidemie a cui... Speriamo che non ci siano, tutti facciamo, che incrociamo le dita in tutti i modi. A cui comunque forse dobbiamo prepararci, sicuramente appunto ci rendiamo conto anche della potenza di questi strumenti e tra l'altro appunto potenza in cui al di là appunto delle epidemie tutti, se ci pensiamo, facciamo esperienza ogni giorno perché appunto i suggerimenti che ci possono essere dati dai diversi sistemi online, dai nostri smartphone, eccetera, eccetera, ci danno un'idea di come questo potere predittivo raggiunga già dei livelli, diciamo, avanzatissimi. Ecco, ma tornando appunto quindi su un piano più generale, quali sono in qualche modo i lati oscuri appunto di tutto questo? Quali sono i rischi da cui dobbiamo guardarci? Ma i rischi sono molteplici perché noi stiamo parlando di acquisire le chiavi della costruzione di mappe del futuro su cui ragionare ed agire che però hanno, vanno valutate anche nel loro valore etico, cioè quanto è giusto predire certi tipi di futuro e avere un controllo di che cosa può succedere nel futuro, che purtroppo non è una cosa che ha alla portata di tutti, cioè la capacità previsionale a livello sociale, politico, corrisponde a un enorme riequilibrio degli assetti politici, di potere politico ed economico. Ora, diciamo, facendo un salto che è piuttosto grande se ci pensiamo, cioè ovviamente questo tipo di dati e di previsioni nel campo pandemico sono fondamentali e, come diciamo, una capacità di lettura dei dati e l'uso di algoritmi e modelli appropriati si trasformano proprio in carne e sangue, vuol dire risparmiare delle vite, capire cosa poter fare. Allo stesso tempo però poi quando invece entriamo in un altro campo e c'è chi dice che Amazon uccide i commercianti perché è la grande distribuzione, invece bisognerebbe forse pensare che Amazon in realtà uccide i piccoli commercianti perché ha un potere predittivo sui singoli individui attraverso algoritmi, sugli individui nel senso che Amazon riesce a capire in qualche modo prima di noi stessi che cosa ci piace o ci può interessare e ce lo suggerisce. Questo è il grande potere di questo tipo di algoritmi e di come va a riassestare il mondo intorno a noi. Allora qui dobbiamo capire come ci muoviamo in questo mondo, quali sono i limiti etici delle previsioni, i limiti etici se ne parla molto di privacy rispetto ai dati, ma non solo quello, i limiti etici di quando noi muoviamo questi dati anche in maniera rispettosa della privacy all'interno però di algoritmi che riescono a leggerli in maniera molto sofisticata per trovare delle previsioni di individui o del futuro, in qualche modo stiamo già facendo qualcosa che va a toccare altri limiti etici, è giusto prevedere il futuro fino a quando, come, in che modo, a che livello di granularità, ovvero il singolo individuo, la società, che cosa, quindi ovviamente si apre un enorme territorio scientifico e di nuovo qui l'interdisciplinarità non solo per i fisici o i biologi o gli epidemiologi o gli scienziati politici ma addirittura poi per i giuristi, per i filosofi perché andiamo a toccare sfere molto molto delicate di quello che è il nostro mondo e il rapporto con noi stessi e la società. Una cosa importante, io questo lo voglio dire perché poi spesso si parla di queste cose come se fosse un futuro lontano, abbiamo tempo per pensarci, no, noi ci siamo già dentro, quando si parla molto spesso a me mi chiedono ma cosa pensi dell'intelligenza artificiale e io dico guardate il problema non è più già l'intelligenza artificiale ma è l'intelligenza aumentata, nel senso che noi siamo già in simbiosi con la macchina, ognuno di noi attraverso il suo dispositivo mobile, il suo telefonino in qualche modo in questo momento accede a informazioni, a un potere computazionale per noi stessi, a cosa appunto indicazioni su cosa ci piace, come muoverci, come interagire con gli altri, che è mediato da algoritmi e dati. I nostri dati permettono all'algoritmo di cucirsi addosso a noi come un vestito e allo stesso tempo in qualche modo l'algoritmo ci ritorna delle cose che a noi fanno molto molto comodo, vedete che è una simbiosi, cioè l'algoritmo senza i dati che noi generiamo non riesce a migliorare e noi allo stesso modo non abbiamo una vita più facile, quindi siamo diventati già una cosa che è fusa, sì non siamo come nei film di fantascienza dove c'è l'impianto del chip all'interno del braccio, però poi ognuno di noi quando esce fuori di casa la mattina si è lasciato il telefono a casa, io sono sicuro che anche lei lo sente, ha un senso quasi di bisogno fisico, oddio è come se mancasse un pezzo del nostro corpo, no io sono di una generazione dove non avevamo mai nessun telefonino, si uscita di casa si stava tranquillissimi, adesso se io dimentico il mio supporto tecnologico, no devo tornare a casa lo devo trovare e qui cominciamo a vedere che andiamo verso un tipo di società diversa che ha acquisito un sé diverso, c'è qualcos'altro, questo a livello del singolo e anche a livello della società, perché in qualche modo queste mappe del futuro che noi creiamo quando prevediamo le pandemie, ma quando prevediamo la politica, quando prevediamo i movimenti sociali, quando facciamo questo tipo di analisi, è come se la società acquisisse una capacità di guardare se stessa che è completamente nuova, è una specie di intelligenza collettiva che guarda quali possono essere i suoi futuri esattamente come noi da persone, abbiamo la nostra coscienza e capacità cognitiva per analizzare che se faremo certe cose avremo dei risultati diversi nella nostra vita. Questo è un campo affascinantissimo che tra l'altro esco dalle mie capacità scientifiche, va al di fuori, io in qualche modo divento una persona che lavora su queste metodologie, l'impatto di queste metodologie in maniera ampia sul singolo e la società sono qualche cosa appunto che richiede questa interdisciplinarità, ho bisogno, abbiamo bisogno dell'aiuto di tanti saperi per poter cercare di capire dove stiamo andando. Ecco, legandosi a questo e per concludere su un tema che come rivista di approfondimento che in un qualche modo si interroga sulle condizioni di un dibattito pubblico che sia all'altezza diciamo delle grandi trasformazioni che stiamo vivendo. Ecco, c'è un problema di consapevolezza su tutti questi fenomeni e come si affronta? Questa è forse la domanda più importante, la domanda chiave. La pandemia in qualche modo è stato un esempio della mancanza di consapevolezza, cioè la mancanza sia della classe dirigente, dei decisori di come usare questi metodi, questi approcci, questa capacità previsionale, come gestire l'incertezza, come gestire questo rapporto con una previsione a cui non corrisponde poi una fotografia come quando siamo nella meteorologia, ma corrisponde invece un'analisi numerica che vive all'interno di un computer. Questa era una mancanza di capacità e di consapevolezza che è stata importante e se poi trasportiamo questo nel campo più generale diventa ancora più grande perché purtroppo c'è un'enorme mancanza di consapevolezza e di alfabetizzazione numerica, a me piace richiamarla così, cioè la società non crea molto spesso percorsi formativi adeguati che permettono di capire il valore della scienza, delle capacità tecnologiche come impatto sociale. Per cui quello che abbiamo è che, lo dico sempre, mentre se tu vai, mi succede a me, lo confesso, puoi andare ad una cena con amici e c'è sempre qualcuno che dice ah tu fai lo scienziato, ah io di numeri non capisco nulla e che cose curiose. Se io andassi, immaginate io come scienziato che vado ad una cena con amici e dico ah io di letteratura non capisco nulla perché non ho mai letto un libro, sarei immediatamente tacciato come un cretino in qualche modo. Invece purtroppo per la controparte scientifica questo non succede, questa è una mancanza di sensibilità enorme, di consapevolezza ed è da lì che parte questo nostro cammino per cercare di capire meglio come creare un mondo che usi queste tecnologie in maniera positiva per un impatto positivo e non con tutte quelle zone d'ombra che spesso ci fanno paura. La consapevolezza è quella di capire che questi algoritmi appunto sono già con noi, che noi in qualche modo gli cediamo intelligenza, che loro ci ritornano un'intelligenza che dobbiamo però poi saper leggere, che questo si trasferisce a livello sociale in una capacità di guardare al futuro ma in una maniera che non è deterministica ma che è quello di leggere delle mappe su cui metterci in cammino. Tutto questo deve essere all'interno, il cittadino deve capire questo. Noi abbiamo bisogno di una cittadinanza digitale che non è una cittadinanza digitale nel fatto che è solamente che siamo connessi a internet e sappiamo usare un dispositivo tecnologico ma è una cittadinanza digitale dal punto di vista etico, dal punto di vista di comprensione di quello che è. Attenzione, io non chiedo che nessuno diventi un informatico esattamente come non deve essere, come capire quali sono i problemi legati all'energia nucleare, non voglia dire diventare dei fisici nucleari, ma bisogna appunto avere invece la consapevolezza e sensibilità per capire il mondo che ci circonda. Grazie ad Alessandro Vespignani per questo percorso io credo molto interessante che ci ha fatto capire molto bene qual è la portata enorme delle questioni in campo di cui abbiamo discusso. Grazie a tutti voi per l'attenzione, per averci seguito e vi do appuntamento alla prossima puntata dei dialoghi di Pandora Rivista. Grazie. Grazie a voi. Grazie per aver guardato questo dialogo, se l'avete apprezzato lasciate un like e se volete essere aggiornati su tutti i nuovi video di Pandora Rivista iscrivetevi al canale, è anche un modo per supportare il progetto.